Eccoci qua, siamo in diretta. Ah, gli occhiali, giusto, me li dimentico sempre. Dunque, buonasera a tutti. Sono connesso col wifi, vero? Sì, meno male. Allora, sono incredibilmente depresso e l'essere andato a vedere Star Wars così non è una cosa che supererò nel breve periodo. E' stato decisamente peggio di quello che potessi pensare, senza fare spoiler. Ma è quanto la storia del pusher di oggi che ha battuto decisamente forse la cosa dei mitocondri, però ora vediamo un po' di parlare di tutto tra un minuto appena c'è un po' di gente connessa. E volendo fare una recensione, vero, proprio il più, come dire, onesta possibile, mi ha depresso davvero Star Wars. Non c'è una cosa che mi sia andata veramente a genio. Senza fare spoiler, però sono veramente cose messe lì a caso, secondo me. Un po' come il finale del trono di spade, quindi estremamente, estremamente deprimente. Perché alla fine essere l'ultimo episodio è fatto col culo, rovina tutto quello che c'è prima. Il trono di spade ha rovinato tutto quello che c'era prima, l'ultima stagione, e con questo Star Wars ci siamo abbastanza vicini. Quindi, opinione a caldo, poi magari me lo vado a rivedere e cambio idea, ma non credo che succederà. Dunque, allora oggi, come sempre tante domande, ora oggi un sacco di domande sempre sullo smolo, da quando mancate famiglia. Mancate famiglia. O se non ci vediamo più auguri anche, mi raccomando. No, dicevo, oggi un sacco di domande. La storia del pusher, come dicevo, mi è piaciuta particolarmente. Perché, scherzi a parte, mi dà sempre un'idea di come si pensi a cose tendenzialmente inutili. Tipo, l'importante di essere pusher o puller, cioè, mai sentita sta cosa? Quindi, boh, non so da dove sia uscita, forse neanche mi interessa del tutto, però alla fine ogni tanto bisognerebbe concentrarsi di più sullo spingere, piuttosto che su tutti i discorsi di percentuali o i pusher. A meno che il pusher non venda del GH, in quel caso occuparsi del pusher è utilissimo, così almeno si fa proprio un balzo in avanti nei propri allenamenti. Dunque, e poi cos'altro letto? Sì, la cosa dell'alcol mi è piaciuta, devo ammettere, perché c'è la preoccupazione, un po' tipica da palestrato, del oddio mi rovino gli allenamenti, però anche quella necessità di doversi ridurre uno straccio con l'alcol. Cioè, non c'è la via di mezzo del mi bevo una birra perché ho una vita sociale. No, c'è proprio la preoccupazione del va bene per la massa, tipica di tutto quello che si fa, mista al non saper rinunciare a, evidentemente, 12 bicchieri di alcol. Quindi, anche quella è stata divertente. Ogni volta, alcune domande sono sempre veramente interessanti, però tant'è si scende sempre anche in alcuni punti, quindi è uno strano binobio. Buonasera, Alessio Ferlito. Sì, sono io. Grazie. Ciao. Ora, non ho risposto ad alcune domande, anche se l'abbiamo praticamente finite le storie, come al solito oggi, e quindi se avete delle domande fate pure, che intanto se no ne cerco qualcuna, o continuo a deprimermi per un colpa di Star Wars, quindi vediamo. Se avvelenarti con l'alcol diventa uno strongman. Anche. O vado a fare powerlifting in Veneto. E, ops, no, mi hanno sorpreso anche che la mancanza di domande sullo stare eventualmente fermi a Natale, perché immaginavo un sacco di preoccupazioni sul come recuperare dagli sgarri, come fare se si sta fermi sotto Natale, tutti i discorsi di questo tipo, ma non ce ne sono stati. Forse perché vengono ottenuti buoni per la settimana prossima, vediamo. Non credo ovviamente che farò la stories con le domande settimana prossima, perché è Natale. Non escludo di fare comunque la diretta serale. Vediamo un po' se ho tempo, se ho qualcosa da fare o meno. Che si è saluto dei Vikings al col Veneto, viva lo spritz. Sì, non è da escludere, secondo me. Quando, quelle poche volte che sono andato in Veneto, in effetti c'erano spritz da tutte le parti. Anni fa ero andato in, come si chiama, in trasferta a Padova, e in effetti alle 6 di pomeriggio c'erano spritz a ogni angolo. Infatti, ho una mia collega che piaceva negli spritz, sembrava di essere in paradiso. Perché non hai continuato a gareggiare? Perché mi sono roti i coglioni di gareggiare. Semplice. Posso chiederti se un esercizio può essere utilizzato come ausilio per lo squat, soprattutto ai bar? Sì. Che esercizio, però? Ah, ok, sembra una cazzata, ma con lo squat scalzo, per proiezione, non ho mai capito se lo scalzo... Ah, ok, che scalzo si intende? No, scalzo di solito si intende semplicemente senza scarpe. Prima cosa. Lo zerkle squat? No, ogni tanto me lo chiedete, ma secondo me lo zerkle squat è una cagata pazzesca. perché ha praticamente solo difetti da un certo punto di vista. Cioè, quindi... Perché il tenere il peso in braccio lo vede una cosa molto scomoda e non ha tutto il dover... Cioè, le cose positive dello squat non ce l'ha. Il fatto di tenere un peso sul braccio è scomodo, secondo me, non è neanche un front squat. Se hai col peso davanti, nello squat ovviamente ce l'hai dietro. Quindi non mi piacciono tutte queste modalità del dozerker. Più forse un complementare per lo stacco, un esercizio da strongman. Cioè, non è un esercizio che io vedo bene come complementare dello squat. Ovviamente, mia opinione, come sempre, non... Se cito qualche studio, lo dico sempre. Quindi questa è la mia opinione. Riguardo ai video del core debole, limitanti per 3b, quale consigli e come sovraccaricarli? Beh, c'è scritto anche quello nel video. Cioè, al fine, riuscire a imparare nel sit è già un ottimo punto di riferimento per un buon core. Così come la planche... No, sì, dai, tutte le volte mi confondo, ho detto quella sbagliata. Così come la plank. Magari riuscirai a fare una planche. Con quella c'hai sicuramente il core forte. Secondo te c'è tanto doping nelle nazionali italiane DPL? E questa è una via dritta per una querela, quindi non rispondiamo. Non si può parlare di tutto pubblicamente, ragazzi. Se vuoi fare i video su YouTube alla Jujimufu, certo. Non ho capito, vabbè. Ho finito il protocollo per le trazioni, come scarico? E basta, dovresti aver già scaricato facendo il massimale di trazioni. Si spera. Cioè, se no, basta perché scaricare. Si scarica quando si sente il bisogno, non... No, figurati, la verità, non è che posso dire sì c'è doping, no, non c'è doping. Cioè, non dico né sì, non dico né no. Perché sicuramente non sono belle cose. E ovviamente so più di quello che magari passa da fuori. Dunque, come si inizia a imparare il pistol squall? Che mi sono perso, cazzo. No, a niente, a meno che tu non ti sei perso il pusher. Però quello era nelle stories di oggi. Il pusher che non scappano perché hanno l'anca scatto. Come si impara il pistol squat? Semplicemente provandoci. Cioè, non c'è sempre una propedeutica. Non c'è sempre l'esercizio segreto. Cosa che viene spesso fuori. Qual è l'esercizio migliore per? L'esercizio migliore per, spesso, l'esercizio in sé. Cioè, come si impara il pistol squat? Provando a fare il pistol squat. Prova. Cioè, al massimo i problemi di equilibrio che risolvi con dei rialzi sotto il tallone all'inizio. Però non c'è una propedeutica se non l'esercizio stesso. Ti è mai capitato di notare un transfer positivo modificando la larghezza delle gambe su panca? Sera. Poi sì, a seconda di come metto sto più o meno comodo. Quello sicuramente. Non direi transfer. Cioè, un feedback positivo. Quello sicuramente sì, a seconda di come ti posizioni, a seconda di come metti le gambe. Cambia di brutto l'alzata. Perché si dice che nella pesistica non c'è lo sticking point? Nella fase di accosciata c'è lo sticking point? Sì, però è anche vero che è la parte più facile. Cioè, tra il lanciare un peso in aria e portarselo al petto. Cioè, la fase di squat è la fase più semplice. Cioè, se tu perdi il tendenzialmente, lo squat, solo per questione di equilibrio, tipo, puoi sbagliare lo snatch in fase di risalita perché perdi l'equilibrio, non per problemi di forza. Cioè, dopo che hai lanciato un peso in aria, cazzo, difficilmente quel peso non riesci a squattarlo. Quindi non è un problema di quel peso. Cioè, anche i cinesi, vedi lì che palleggiano con 300 kg, però di snatch, clean and jerk, cazzo, nessuno fa 300 kg, quindi si spera che li sappiano gestire più che bene nella fase di squat. Quindi per quello non c'è lo sticking point, perché non è la fase importante. Cosa ne pensi di porsi un obiettivo per ogni aria? Tipo, one hour press per la tirata, trazione in braccio, beh, ogni aria, quello è ogni... Scusate, mi stavo sistemando. Beh, sì, è più corpo libero però quello. Cioè, ogni aria... Gli obiettivi ovviamente devi porteli, però non è che devi stabilire quale, quanto. Come pre-workout, che se ne ne aggiungi un bicchiere di vodka va bene. Eh sì, visto esatto, visto il tenore di oggi, direi che la vodka è il pre-workout migliore. Per chi fa PL in off-season, è giusto fare un buon periodo tra sei mesi lavorando solo in ottico volume? Eh, boh, dipende quando hai il test. Cioè, ovviamente quando si programma, si programma a ritroso, nel senso che ho il test a giugno e vado a ritroso per creare la programmazione. Non è che faccio sei mesi di ipertrofia, babbo. Cioè, devo anche avere in mente che poi tutti quei sei mesi devo trasformarli in qualche modo. quindi dipende da quando hai l'obiettivo. Per quanto riguarda la panca, preferisci più volume oppure fermi più lunghi al petto per migliorare la spinta? Dipende perché dove devi migliorare la spinta. Se sei debole nella prima fase, sicuramente conviene migliorare il fermo. Fermi lunghi, tutte queste cose. Se invece sei col problemi di chiusura, magari è meglio far più volume, con prese più strette. Come sempre dipende dov'è il tuo problema. Quanti kg rispetto al proprio peso si dovrebbe caricare in l'entavanti per poter iniziare a fare seriamente? No, seriamente si fa dall'inizio. Quando è un buon risultato, il tuo peso. Cosa ne prendo? Ho visto una cosa sul trazione del paziente, il volume. Me lo son perso. Comunque, trazione del paziente a zavorrate no, perché è un metodo, quello che ho pubblicato oggi, per l'endurance, quindi per aumentare il numero di ripetizioni. Mentre magari alle zavorrate puoi applicarci il sollevatore paziente classico, cioè il 6x4 classico di Polyquin. Cioè, cambio l'obiettivo. Cioè, il mio metodo sul lungo periodo soprattutto è un metodo per appunto aumentare le ripetizioni. Poi più uno diventa avanzato, più ci sta anche inserire magari una fase di intensificazione. Se invece sei all'inizio, va bene solo fare il giochetto dell'arrivare a 10 singole e poi ripartire. ovviamente più diventi avanzato, più il metodo va un attimo perfezionato, però appunto dipende da quello che è del tuo livello, quello che devi fare. E detto questo, vediamo, se faccio 5RM sempre con più 30 kg di pull up, ma peso 4 kg in più, sono più forte? Beh, tendenzialmente sì. Direi. Il peso corporeo comunque fa parte del gioco, quindi più tu perdi peso, più tu diventi forte in un esercizio corpo libero. Anche perché le persone, vedo almeno delle domande che ricevo, si perdono sempre il punto del sommare il proprio peso a quello che sollevano. anche nella stilare proprio la programmazione, cioè il 70% di cosa? 70% di tuo peso più peso sollevato, perché se tu fai il 70% solo della zavorra, praticamente ti alleni sempre al 90%, fondamentalmente, non è mai un calcolo ben fatto. Dunque, avevo visto un'altra domanda, forse qualcuno che un attimo ho sintetizzato. Allora, 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 ok, ok, no, sì, mi ero un attimo magari in modo troppo riassunto quello del sticking point della pesistica. Comunque, nelle parti difficili, nelle parti fondamentali di un'alzata di pesistica si dice che non c'è sticking point, perché la parte complicata, come dicevo, non è la parte di squat, si spera, perché comunque anche guardando i classici video dei pesisti, lo squat ovviamente ha molti più chili sollevati, ma basta un attimo anche l'esperienza, cioè io di push press quanto faccio? Il massimo che ho fatto è stato un colpo a 100 chili, cazzo, si spera che io abbia più di 100 chili di squat, quindi la parte difficile non è quella, è la fase finale o il girarsi all'alpetto, tipo io girarmi all'alpetto 100 chili non ho idea di come si faccia, quindi... lento avanti, si arriva vicino allo sterno o solo sotto il mento? No, lento avanti se arriva, devi poggiare sul petto, parte dal petto lento avanti, puoi, puoi farla touch and go, dove però tocchi e riparti, o tocchi, proprio il peso si poggia sul petto e riparti, però parte dal petto lento avanti, poi se lo fai alla bro, se sei un bro va bene anche al mento, però alla fine più il movimento completo meglio, non la farei mai fermo solo al mento, se vuoi fare quel tipo di lavori piuttosto usa i manubri, un po' come quelli che non vogliono inclinare la schiena nel lento avanti, se non vuoi inclinare la schiena fai il lento manubri, la dinamica del lento con bilanciere è quella, non si fa un esercizio multiarticolare come il lento con bilanciere pensando, isolo quel distretto muscolare in realtà per come lo vedo io non si fa nessun esercizio multiarticolare soprattutto pensando isolo quel determinato movimento isolo quel determinato muscolo perché esistono gare di specialità di punk e scuotac o mano di squat? boh anche se devo averne visto ogni tanto ci sono tipo la VDF e PF mi sembra le facce di squat nelle gare di calisthenics mettono solo lo squat come alzata però no boh non ho idea sinceramente non ti saprei rispondere anche se appunto solo in FPL diciamo in ottica IPF non c'è solo la gara di la gara di squat non lo so magari inconsciamente lo squat non piace a nessuno io ad esempio non la farei mai una gara di solo squat piuttosto vado a fare quelle di non so se le fanno sempre in FIP quelle di punk più corsa che io correre è una cosa che odio però piuttosto che fare una gara di solo squat veramente faccio la maratona proprio un odio verso lo squat dunque arrivo vediamo se non mi sono perso niente berserker su overhead press beh sì sul lento avanti anche se devo ammettere che sto rivalutando molto le programmazioni sul lento avanti perché per rispondere alla domanda a me è sempre piaciuto fare lavori strettamente quando proprio volevo farci dei chili molto alti di intensità e a basse ripetizioni cioè lento avanti secondo me per come la vedevo prima il metodo quello delle 20 singole che anche sul mio sito era il metodo proprio del lento avanti perché ti insegnava proprio a fare la singola forte veloce a picchiare sullo sticking point intensità alte e invece adesso facendo lo smolo devo ammettere che sono passato da lo smolo originale quello in 4x9 eccetera allo smolo junior perché il 4x9 del primo giorno non riuscivo più a a tenerlo quindi mi pesava tanto invece tutte le altre alzate a volume alto ogni settimana omettendo il peso ho notato che invece danno sta dando veramente tanto quindi evidentemente anche il volume è intensità sempre più alta nel lento avanti da ora dovevo fare il test ipoteticamente settimana prossima ma mi sa che vado avanti ancora una settimana feste di Natale permettendo mi dovrò andare ad allenare la mattina di Santo Stefano probabilmente però mi sta piacendo un sacco questa formulazione ho anche lasciato indietro le dip un po' perché ero attanto così secondo me di farmi male con le dip perché tutte le settimane tiravo 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 e proprio tra una settimana e l'altra sentivo che lo sterno proprio non recuperava i domes allo sterno infatti poi farò anche un video su come si allenano le dip secondo me perché non farei più di due volte a settimana e sicuramente non più di una volta sarà caricata pesante credo sia perché giusto tornando a parlare dello squat le tre powerlifts lo squat sia quello più simile allo stato olympic quindi avrebbe perché o no va quello non credo sai perché comunque per fare weightlifting devi esserci non ti dico nato però devi averlo cominciato sicuramente presto quindi difficile cioè non è che in italia poi che c'è pochissimo la cultura del sollevamento a pesi è difficile trovare i pesisti forse ora un po' col crossfit la situazione sta migliorando però anche lì cioè io un po' triste il fatto che ad esempio ci siano sempre come dire come si chiama rettate dei nas quando c'è qualche gara importante di crossfit e improvvisamente gareggino in due quindi come dire la pesistica in italia ha poco futuro secondo me buonasera la settimana scorsa ti ho mandato un messaggio in direct in cui ti ho andato sul file 2.0 non me la ricordo la domanda sul 2.0 ne ricevo talmente tante domande che alcune me le perdo non riesco a rispondere a tutte vediamo un attimo scrivimi qua se riesco il trazionatore paziente pensavo di applicarlo per aumentare le repni i piegamenti in verticale e le parallele assolutamente benissimo si si no considerate sempre che appunto è un metodo come dicevo prima basato sull'aumento delle ripetizioni quindi ovunque voi vogliate aumentare le ripetizioni potete applicarlo lo vedo bene nelle dip lo vedo bene nei piegamenti in verticale bravo magari il punto sono rincoglionito l'esperienza star wars mi ha un attimo scosso lo vedo bene sui piegamenti in verticale con i rialzi cioè gli esercizi in cui si fa di aumentare le ripetizioni che però di base sono esercizi pesanti come ad esempio anche il mascolappo in cui mascolappo sembra maccio capatonda mascolappo in cui tu comunque parti facendo poche ripetizioni cioè nei piegamenti a terra per dire o nei piegamenti a muro senza rialzo dip che in realtà li ho detto prima erroneamente cioè sono tutti esercizi in cui tu comunque arrivi rapidamente a fare tanti tante ripetizioni quindi non userei approcci come quello quello è proprio intermedio tra virgolette cioè io lo sto usando per dire nelle trazioni a un braccio perché comunque ho una doppia quando va bene quindi singola 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 e prima o poi spero escano doppi un pochino più solide nelle dip per dire se voglio aumentare le ripetizioni nello squat per qualche assurdo motivo come in realtà io ad esempio non posso sovraccaricare troppo di squat quindi per quello non mi vedete mai fare squat ho deciso di puntare sull'aumento dei pistol o degli squat lì hai una determinata programmazione negli esercizi come le trazioni così invece puoi programmare un pochino più pesante come ho fatto nel metodo che ho proposto oggi non so che cazzo ho detto cioè spero si sia capito mi sono un attimo rincoglionito mentre parlavo è normale che tra 160 kg di stacco è la prima volta che lo fai in vita tua è stata boh dipende che sport hai mai fatto prima e poi su cosa che c'era ah si ha senso modificare lo smolo facendolo su due allenamenti a settimana facendo i primi due allenamenti della settimana la prima settimana i secondi due la settimana dopo beh sì si può fare si può fare se tu fai un allenamento no sì si può fare mi viene in mente ad esempio il bettati che non mi ricordo se ci ho mai fatto un video comunque non mi ricordo neanche a memoria ora adesso come sia il bettati però il bettati praticamente com'è non lo è però per farvi capire che so lunedì 5x5 venerdì 6x4 e lunedì dopo 8x3 quindi è su una settimana e mezzo e poi si ricomincia dal 5x5 per dire con due chili e mezzo in più quindi si può anche programmare su settimana e mezzo si può fare anche su due cioè semplifichiamo anche da questo punto di vista cioè non è importante avere progressioni particolarmente complicate cioè alla fine va benissimo io per un sacco di tempo gran parte delle schede che facevo erano proprio una cosa simile cioè settimana 1 e settimana 2 da ripetersi e sono le schede che hanno funzionato meglio cioè alla fine io quando ho fatto i miei ormai famosi sono come gli anziani che parla di quando erano in guerra i miei famosi 160 di punk li ho fatti con un approccio semplicissimo di questo tipo quindi assolutamente assolutamente sì dai fai lo small of su due volte a settimana solo se poi mi dici come sta andando perché se no non va bene cioè alla fine io vi dico sempre provate 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 però cazzo fatemi anche sapere come sta andando perché se no non vi rispondo neanche direttamente più quindi se fai lo small of su due volte a settimana assolutamente sì ok un attimo che sto ricevendo un sacco di domande quando dobbiamo passare a 6 per 3 togliere la seduta tecnica dei squat in giorni martedì venerdì hai scritto di insegnare il secondo allenamento boh non mi ricordo eh non mi ricordo detta così buonasera ho visto il video della densità ok preferiresti programmare blocchi forse per te sia metabolico o metodo headfield allora come sempre devo rispondere entrambe le cose nel senso se tu fai sempre a blocchi ti rompi i coglioni quindi ci sta ogni tanto tipo lo faccio con qualcuno che seguo dopo che ti sei fatto tutti i blocchi magari una due volte ci sta a fare due tre mesi magari in cui tu fai tutto tutto insieme così quando poi ti concentri solo su una fase differenzi un po' così come prima differenziavi spesso ecco lì che facendo tutto insieme magari dai effettivamente uno stimolo nuovo perché alla fine cioè hai saltato la mia domanda capito momento se tu fai tutto insieme anche lì differenzi le cose da fare purtroppo sono sempre quelle dico purtroppo perché i metodi alla fine sono sempre quelli fai volume accumulo intensificazione volume intensificazione peaking volume intensificazione peaking se fai powerlifting se fai bodybuilding invece devi mischiare quelle altre tre varianti però sempre di quello si tratta puoi cambiare i numeri dentro puoi cambiarci le progressioni però le logiche sono sempre quelle quindi non è difficile trovare qualcosa di nuovo quindi alla fine ci sta fare un periodo tutto differenziato un periodo tutto insieme commento sull'articolo di Evangelista dove si dice che Sheikos sostiene siano ottimi che cosa siano ottimi e puoi trovare articoli che compreso te dicono sia meglio la multifrequenza manca un pezzo eh vedi però io non rispondo alla tua domanda però scrivimela bene che cazzo secondo te lo pse lo pseudopushup pseudo è un esercizio consigliabile a chi fa salatrezza oppure più indicato per cos'è uno pseudopushup ragazzi mi state mettendo in crisi stasera cos'è uno pseudopushup è quello fatto dal pusher dei mitocondri ciao no non si fa minicat durante un ciclo russo punto fine della domanda cioè non se pago ora per decidere una scheda quanto tempo c'è di attesa e boh mica se mi imposta dipende da se mi mandi in tempo tutte le le cose che mi servono per farla star rose preferito serie o singolo film guarda come dicevo prima sono tornato da vedere il nove e porca di quella puttana è appena diventato mandalorian l'unica cosa che mi piace di più di star wars mandalorian ora ho visto che è uscito il settimo episodio devo ancora vederlo mandalorian mi sta piacendo un sacco anche se è un po' cioè è difficile cogliere il filo conduttore della trama quindi ho paura che ora il settimo l'ottavo e l'ultimo ho paura che la trama uscirà tutta insieme l'ultimo episodio e io mi incazzerò però davvero episodio 9 mi ha turbato profondamente perché rovina tutto quello che hanno fatto con episodio 7 e 8 cioè sono uno a cui è sempre piaciuto episodio 7 sempre piaciuto episodio 8 quindi anche quando la gente si lamentava e dicevo boh sono dei rompicoglioni però credo che con episodio 9 saremo tutti d'accordo che è un brutto film proprio fatto male personaggi caratterizzati un po' col culo scelte di trama pessime non c'è un duello che mi è piaciuto di spade laser quindi no deprimente davvero degli altri miglior star wars devo ammettere che quando ero piccolo mi piacevano un sacco la minaccia fantasma ci passavo l'ho visto non migliaia di volte però la trilogia originale è la trilogia originale tra tutti devo ammettere che il 7 e l'8 comunque mi piacevano tanto mi piacevano ma non con episodio 9 mi sono veramente caduti i coglioni non so neanche più se riuscirò a guardare bene il 7 e l'8 perché poi cazzo ma cosa li guardo a fare il 7 e l'8 sapendo che poi finisce con quella merda che hanno appena fatto ora magari sono un po' drastico ripeto che me lo vado a rivedere però avevo delle aspettative talmente alte che comunque sono state stra stra deluse 7 la fotocopia del 4 sicuramente però sta in piedi l'8 sta in piedi invece il 9 hanno boh non sapevano come chiudere hanno chiuso col culo come hanno fatto col trono di spade cioè raga dobbiamo finire adesso boom risolto tutto non mi è piaciuto allora domanda evangelista scrive nell'articolo che ha fatto che secondo shako il miglior numero di allenamenti settimanali è 2 per alzata dubito che shako dica che ci si debba allenare due volte a settimana anche perché scarichi i suoi programmi cazzo sono su 5 non mi ricordo chi seguiva che faceva 16 punk a settimana quindi ci siamo persi dei pezzi mi sa cioè il miglior numero magari è 2 squat 2 panche 2 stacchi a settimana lì quadra se guardi le sue programmazioni però allora siamo 4 allenamenti a settimana però 2 allenamenti a settimana non quadra le stesse schede di shako non quadrano perché comunque sono tutte almeno su 4 3 minimo quindi no Ale in quanto a certificazioni da personal trainer consigli delle associazioni in particolare o sono tutte uguali guarda onestamente sono a livello è difficile da dire prendetela come viene fondamentalmente sono Star Wars si è episodio 9 stavo parlando dell'episodio 9 che ho visto oggi pomeriggio tutte le certificazioni sono tendenzialmente carta straccia nel senso che vale la tua preparazione alla fine per fare il personal trainer tu devi avere la partita IVA punto non è che devi avere dei titoli non c'è un albo quindi dipende a te cosa ti interessa fare ovvio che in alcuni ambiti si può dire anche che sia ottimale la laurea in scienze motorie ma non sono per niente d'accordo con buona pace di chi ha fatto scienze motorie però non ti dà una preparazione sull'allenamento che ti puoi fare tranquillamente a parte senza dover studiare tipo a Genova c'è psicologia c'è anche diritto non so quanti esami di diritto ci sono a Genova ora a parte tutto ho studiato giurisprudenza vi garantisco che diritto non serve a niente per allenare qualcuno sulla domanda dell'Evangelista sul suo articolo diceva che per vedere se uno ha talento per essere realmente forte bastano solo due sessioni ah ok nel senso che uno si allena in due allenamenti ah ok allora quadra si 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 se uno è portato lo vedi anche in una sessione si assolutamente allora quadra tutto dicevo dicevo le certificazioni tutte una vale l'altra cioè alla fine conta quello che fai tu l'esperienza che ti fai te cioè devi veramente per assurdo io c'è una citazione di Bruce Lee che mi piace un sacco che è quella all'inizio prima di cominciare ad allenarmi per me un pugno era solo un pugno poi mentre studiavo le arti marziali un pugno non era più solo un pugno poi quando ho finito di studiare le arti marziali un pugno è ritornato ad essere solo un pugno e onestamente mi sento di dire dopo anni che parlo sempre della stessa roba anzi in questo periodo ne sto parlando ancora di più con la storia dei video mi sono proprio accorto che conta alla fine farle le cose perché quello che conta più di tutto è saper insegnare a una persona l'esercizio quello che conta più di tutto è aver provato qualcosa in prima persona non sto dicendo che conti per assurdo la storia dell'essere grossi per avere ragione assolutamente no però conta avere un minimo di esperienza poi tu sei portato ok diventi in un modo non sei portato diventi in un altro però le cose vanno provate in prima persona io ad esempio mi trovo alla palestra sempre con ora l'altro giorno sono arrivato e c'era una signora che faceva stacco sumo male perché ora c'è il personal trainer che insegna stacco sumo a tutti ma se tu non hai mai fatto bene stacco sumo che cazzo lo insegni cosa lo mette le signore cioè siamo arrivati a questo tutti che fanno cose complicatissime che però non hanno mai fatto quindi secondo me anche nel mondo del fitness ora ultimamente noi ci scherziamo parecchio ne sono strafelice perché almeno avete bene in mente il fatto che io non lo prendo troppo sul serio però la cosa dei mitocondri l'altro giorno cosa era uscita la settimana scorsa che non mi ricordo beh anche oggi la domanda del pusher che non so cosa sia se non quelli che spacciano la droga cioè si stanno complicando troppo le cose perché non si sa più cosa vendere però si sta guardando sempre di più la foglia però le persone non hanno veramente idea di come sia la foresta quindi una qualsiasi certificazione purché ti permetta di mettere a te delle basi per poter allenarti io pensavo di farmi una gavetta come istruttore di sala a pesi quando avrò una base di persone e vorrei aprire uno studio mio e sì perché anche lì cioè una base per fare istruttore di sala comunque ci vuole anche se allo stesso tempo l'istruttore di sala ti mette davanti una marea di di casi che è importantissimo cioè io non capisco da un lato i laureati in scienza motorica rompono i coglioni perché i non laureati gli urbano non lavori in sala cazzo il lavoro in sala è l'equivalente del praticantato per un avvocato cioè non puoi studiare tre anni per voler fare l'istruttore di sala cazzo l'istruttore di sala deve essere una cosa di passaggio deve essere un più magari a rotondi facendo l'istruttore di sala però l'istruttore di sala è la base da cui partire prima di tutto per vedere se ti piace quello che fai perché a tutti ti piace andare atleti però se tu poi lavori tipo magari lavoro tanto più su internet che dal vivo però quando lavoro dal vivo non ho atleti ho la spesso magari la sciura maria la sciura maria non viene a fare un cazzo di fare 180 di squat la sciura maria vuole alzarsi dalla sedia e facendo l'istruttore di sala hai davanti tutte queste casistiche è interessante se tu lo prendi nel modo giusto se non lo prendi con strafottenza che sono tutti serie B tranne chi vuole allenarsi seriamente anzi negli anni mi spiace quasi non avere la possibilità di riuscire ad allenare più sciure marie perché sono danno più soddisfazioni è più l'ottica salutistica dell'allenamento quella che mi piace di più in questo periodo e che ho poco modo di farla mi dispiace ho visto fare military in ginocchio al multipower ecco questo è il motivo per cui prima di fare l'istruttore dovresti studiare un pochino ciao Alessio ti ricorderai di me per la domanda fatta qualche giorno fa puoi fare un esempio pratico di back off e cluster set ah si è giusto che ti ho ti ho rimbalzato oggi io studio scienze motorie eh no era apposta se studi scienze motorie perfetto passare dalla sala pesi come dicevo ci sta perché comunque ti da una base mi dispiace sono stracovinto che invece scienze motorie ad esempio non ti dia nessuna base per quanto riguarda gli esercizi perché non è che la scienze motorie ti insegnano a fare un pulle ti insegnano a fare un access press anzi onestamente non è una critica alla facoltà in sé però ho visto molti usciti da scienze motorie che non sanno insegnare un access del press ed è grave perché allora ok che scienze motorie non insegnano ad andare in palestra anzi scienze motorie ha un parco estremamente ampio però cazzo se non ti sanno neanche insegnare fare un access press non dico che cazzo serve però in qualunque sport tu vogli andare hai atleti e se un minimo di preparazione atletica dovresti saperla fare però se non ti insegnano una base vabbè e il cluster set a metà come me lo ricordo il backoff no anche lì il backoff dipende da che tipo di programmazione stiamo di che tipo di programmazione stiamo facendo se è tipo una cosa da triangolazione c'è il backoff con lo stesso peso che raggiunto c'è il backoff scalando del 10 o 5% cioè ci sono un sacco di tipi diversi di backoff quindi per quanto sia sintetico è difficile darti una risposta dimenticavo di ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato leggendo il tuo libro vedendo i tuoi video e seguendo il tuo blog grazie anticipo che il mio nuovo sito è quasi finito quindi da gennaio ipoteticamente prendo tutto il mio vecchio sito e lo rinnovo e voglio aggiungerci parecchia roba più schede sicuramente quindi non più solo coaching uno a uno ma programmazioni che uno si può comprare scaricare voglio fare anche un mio videocorso sulla programmazione e sulle cioè però non un corso per istruttori un corso base proprio perché secondo me come dicevo prima mancano le basi mancano le basi anche a chi magari vuole allenarsi da solo cioè non è che io se io voglio allenarmi da solo devo per forza fare un corso istruttore diventare un istruttore voglio fare proprio è arrivato il mio vicino a martellare un rincoglionito gioca con le biglie per casa credo e dicevo cose per non è che se devo voglio imparare lo squat devo fare un corso istruttori da squat cioè non è che devo diventare io quello competente quindi sto cercando di creare un po' di più la base condivido con ringraziamenti per il tuo libro e il tuo lavoro in totus anche filosofico grazie grazie no è un piacere mi fa piacere e appreziate perché comunque sto cercando di farmi spazio in questo terrificante mondo del fitness giusto stamattina mi sono comparsi due video di gente che un canale fitness fa solo vedere che che mangia quindi un quadro qualcosa comunque vabbè potresti fare inizialmente un corso base un po' di corso di medio sì no no assolutamente ora devo un attimo organizzarmi aspetto di avere il sito pronto aspetto di riscriverci quasi tutti gli articoli perché comunque quando ho iniziato e si parla di 10 anni fa era una cosa molto hobbistica però non essendo più una cosa hobbistica mi serve una piattaforma un pochino più più strutturata che mi permetta di da un lato condividere meglio dall'altro sicuramente di lavorarci meglio e poi se riesco già da quest'anno riuscirò tirerò fuori questa cosa del videocorso chiamiamolo o videocorsi voglio ampliare molto di più anche le lezioni qua a Genova non Genova devo ammettere che è una città abbastanza morta però mi piacerebbe fare qualcosa di più qua qua a Genova e poi ovviamente fare più workshop sempre con l'ottica che dicevo prima cioè il mio workshop non voglio poi magari lo farò solo per chi vuole magari solo per chi fa l'istruttore cose così però l'idea con cui sto facendo tutti i vari workshop ora è dare le basi a chi si allena per i cazzi suoi cioè non ti insegno a fare a diventare un istruttore ovvio che anche col mio libro onestamente dopo che ah sì mi ricordo allora ti rispondo ovvio che col mio libro ovviamente hai tutte ad esempio le programmazioni anche per fare obiettivi quelli che vuoi però la mia idea è comunque creare più basi che posso devi scendere in Sicilia dai e io ci scendo in Sicilia però non trovo palestero ho fatto l'annuncio anche un altro giorno se qualcuno mi invita a Cattania mi sembra però cazzo non c'è nessuno Cattania e mi sembra di aver chiesto non Palermo Messina no comunque ho chiesto della Sicilia ma non ho trovato palestre io scendo ragazzi però mi dovete trovare dare voi una mano a trovare le palestre già per Roma è stato un macello trovarne una e non ho più sentito il tipo tra l'altro devo scrivergli anche un videocorso su torte e guarda scherzaci poco perché volevo cominciare a farci dei video cioè alla fine ribadisco il punto è talmente basso su YouTube per quanto riguarda il fitness che credo che anche se mi mettessi a fare qualche video sul mio canale di cinema o di libri come ho già fatto o anche di torte non credo che potrei scendere più in basso quindi credo proprio che lo farò cioè non magari il videocorso su torte ovviamente però qualcosa di quel tipo sicuramente pensavo di cominciare a farlo credo che farò il videorecensione di Star Wars non riesco a tenermelo per me Trapani no Trapani decisamente era un po' fuori mano da quello che avevo visto perché comunque in Sicilia poi o comunque Sud Italia mi sposto con l'aereo quindi da Genova se non ricordo male c'era vogliamo anche più racconti di mitologia nordica sì devo farmi sono un attimo piantato perché mi sono messo a fare un sacco di cose e mi sono un po' perso però anche quelli ma non mitologia nordica in realtà ho un mito egizio pronto da raccontare infatti dov'è ho già preparato l'action cam per girarlo in questi giorni anche se ribadisco forse farò prima la recensione di Star Wars perché devo condividere con qualcuno il mio disgusto tornando a parlare di allenamento anche se poi ultimamente le mie dirette si parla di tutto tranne che di allenamento il nuovo libro di cosa tratterà allenamento corpo libero dice Catania esatto se mi trovate Catania credo fosse nelle mie possibilità ora non mi ricordo quindi se mi trovi una palestra Catania che mi che mi ospita scrivimelo semmai una palestra di riferimento perché potrebbe essermi utile e di cosa stavo parlando mi sono perso aspetta che me la rileggo ah dai del mio libro del mio libro no allora dal primo gennaio ci cominciamo a lavorare sull'impaginazione mi sono accorto che non l'ho neanche corretto una volta cioè l'ho riletto ho continuato a scriverci sopra scriverci sopra ma non ho ancora riletto quindi ora sotto Natale me lo stampo e me lo correggo tutto di cosa parlerà praticamente di più o meno chi vuole allenarsi a grandi linee ovviamente come faccio io nel senso che chi vuole allenarsi per divertimento senza obiettivi particolari cioè tu vuoi fare magari tanti chi vuoi fare panca dip e trazioni a un braccio con del corpo libero bilanceri cosa così cioè mischiare le varie discipline non nel senso del crossfit ma nel senso di se giocci di vedere stavrosi l'ho visto oggi pomeriggio purtroppo e sottolineo purtroppo sono andato alle tre al primo spettacolo e farò un video magari solo su di cosa tratterà il mio prossimo libro appena abbiamo deciso un attimo che piega deve prendere quindi l'idea è sempre lo stesso ovvero cercare di permettere alle persone di allenarsi sia a casa che in palestra in modo un po' diverso quindi quella è la chiave di lettura principale ora vediamo un attimo di stenderla meglio non mi dire un'altra cacata e guarda sinceramente come dicevo prima a me il set e l'otto sono piaciuti mi piacciono anche tanto l'otto ma mi piace un sacco questo di oggi non mi è piaciuto non sembra ecco mi ha fatto lo stesso effetto che mi ha lasciato l'ottava stagione del tono di spade sinceramente cioè che dovessero chiudere non sapevano come farlo e questo non è uno spoiler l'averci infilato l'imperatore è un po' il modo per chiudere tutto cioè ci metti l'imperatore e automaticamente dà una risposta a tutto quello che hai fatto nel set e nell'otto ed è una cosa che no cioè perché c'erano dieci milioni di possibilità per farci un senso e ho visto se aveva giocato Horizon Horizon facciamo che lo pronunciamo bene Horizon ci ho giocato però onestamente non riesco più a giocare a giochi della Playstation gli unici a cui gioco come dicevo sono i Souls perché gli altri proprio mi stanno rompendo i coglioni mi sembrano tutti uguali va in giro cavalca spara la gente cavalca spara la gente la realtà è spesso deludente è molto deludente guarda avevo le stesse aspettative alte quando sono andato a vedere Iron Man 3 mi ricordo avevo proprio l'ansia di voler andare a vedere Iron Man 3 io odio Iron Man 3 cioè ho praticamente tutti i film della Marvel io in Blu-ray perché i film me li compro quasi sempre e no no Iron Man 3 Iron Man 3 l'odio secondo me non è mai esistito anche perché hanno fatto in modo proprio che non esistesse nella continuity cioè se tu lo salti fa lo stesso non ha inventato nulla quindi odio totale e credo che non lo so lo rivado a vedere Star Wars gli do un'altra possibilità forse oggi avevo troppe aspettative però vediamo cosa ne esce posso allenarmi due volte a settimana ok primo giorno punk e squat pesante ok stacco leggero secondo giorno military squat leggero stacco pesante se però oddio se ti puoi allenare solo due giorni non buttarla solo su powerlifts tipo le trazioni peronatori dove dove le metti esiste la presa bulldog sì l'ho scoperto anch'io che esiste questa presa bulldog che non è altro quella che io avevo chiamato anni fa presa carpea che badate non sto dicendo di aver inventato la presa bulldog va di moda soprattutto in italia dire di aver inventato cose semplicemente è quella che si chiama poi in gergo presa carpea da quello che ho capito perché bulldog non ho idea però è semplicemente la presa leggermente come dire extravurtata o intravurtata che mettono un po' come cazzo volete da quello che ho capito quindi niente di nuovo che secondo me anzi è il modo in cui si prende il bilanciere nella panca se stiamo parlando della stessa cosa poi non vorrei aver capito male io front squat come complementare meglio farlo nel giorno di stacchi pesante e si lo stacco no non farei squat pesante front squat si differenzia mettilo nel giorno dello stacco skywalker quanto fa di panca quando fa di panca quando fu panca e no la solleva con la forza in effetti pessima battuta no lasciatemi non parlatemi di star wars sono triste spero che l'episodio di mandalorian che mi vado a vedere dopo mi risollevi un attimo il morale mandalorian è bello ribadisco ancora e dove dicevamo ok si questo è risposto questo è risposto ribadisco davvero se avete palestre in sicilia specie dicevo mi sembra palermo catania fatemelo sapere o ah commissione nella forza esplosiva esiste la forza esplosiva si quella che sei incantato Ale ma quindi li devi spendere sti 7 euro per vederlo aspetto il torrent no io sono sempre dell'idea che il film vadano visto in prima persona perché magari la mia opinione è sbagliata diciamo anche perché ripeto avevo aspettative talmente alti che a me non è piaciuta e poi magari rivedendolo vedo che mi quadra tutto posso dire che già il momento proprio che uno aspetta ovvero musichetta e scritte che vogliono nello spazio già solo che lì mi sono caduti i coglioni dalla poltrona proprio i primi due minuti mi hanno fatto veramente cadere i coglioni che ho filmato tra l'altro i primi due minuti sono un filmato che circola di Kylo Ren quindi non è uno spoiler lo cercate su internet c'è un trailer di Kylo Ren che arriva e va a parlare con quell'imperatore che gli dice che lui è tutte le voci che ha sentite nella sua testa negli anni cioè quelli sono i primi due minuti di film e ti cadono i coglioni perché proprio dai primi due minuti ti fanno lo spiegone per dirti in episodi 7 episodi 8 cosa sono stati terribili poi il resto del film ovviamente è meglio però non mi è piaciuto il modo cioè è un bellissimo film ma è un brutto Star Wars secondo me ti è piaciuto alla fine Zombieland 2 ecco Zombieland 2 invece è stato un gran bel film Zombieland 1 io lo adoro è un film spettacolare bello 2 è stato ancora meglio secondo me perché prende quello che è stato Zombieland 1 e lo rende ancora più divertente cioè proprio bello Zombieland 2 quello è riuscito a non rovinare un sequel di un Zombieland era difficile da fare perché tenere il tenore dell'1 e invece sono riusciti a fare un film ancora più bello quello lo consiglio sicuramente è stato non credo neanche ci sia più al cinema però Zombieland 2 molto molto divertente sono riuscito a tenere il pdf di DCSS non diciamolo troppo in giro però ottimo merita sicuramente quel libro in una gara a pielle almeno lasceremo finalmente i Skywalker in pace sì non sai quanto sia vero hanno sbagliato il titolo dico solo questo non è l'ascesa di Skywalker i film in una gara a pielle si potrebbe gareggiare anche di front no se spingi meglio di front vuol dire che stai sbagliando totalmente lo squat cioè aia vuol dire che ti sei perso qualcosa nella dinamica dello squat se spingi meglio di front vuol dire che hai un brutto brutto back perché anatomicamente non è possibile se faccio tante singole faccio anche volto faccio anche volume e beh sì ma sai che due coglioni ti fai a farlo a singole cioè cosa fai 30 singole devi fare per fare un però fai in 3x10 ci metti 3 serie contro 30 minuti praticamente o meno che il volume tu non lo faccia io voglio ucciderlo al mio vicino vi giuro nel caso un giorno mi vedrete al tigiro così bravo ragazzo salutava sempre e dicevo se tu invece vuoi fare volume ad alta intensità con con alta intensità singole non è un periodo in cui fare volume quindi devi optare su altro meno male che la diretta è finita perché non so quale vicino dei due sotto stanno anche facendo dei lavori alle 9 di sera ottima idea credo che andrò a picchiarlo appena finita la diretta no quindi singole per fare volume mai perché o sto usando un'intensità alta per cui oggettivamente tu hai bisogno delle singole però non puoi fare volume al 90% o sto usando un'intensità bassa in cui le singole sicuramente non sono ottimali quindi mai fondamentalmente quante trazioni devi fare per la trazione in un braccio no più che quante trazioni perché dipende dall'esplosività il numero di trazioni il quanto di zavorra devi fare che è il tuo peso poco meno però diciamo oppure devi essere al tuo peso di trazione zavorra quindi se pesi 70 kg zavorra è 70 kg quando intendi di tenere l'intensità alta durante un taglio calorico per non perdere forza 3x3 andrebbe bene no 3x3 non è tanto il problema dei numeri è un problema di intensità di bilanciere quindi stare al 90% poi facci quello che vuoi però non è una questione di 3x3 4x2 5x1 i numeri non contano niente in questi contesti conta quello che metti sul bilanciere quindi se sei in un periodo di cut 85% in su proprio per riuscire a tenere sempre il feeling nervoso per lo meno con quei carichi perché se tu già sei in cut tagli il volume e ti allontani anche dalle intensità alte finita che già è finita di per sé perché comunque se fai periodi di deficit lunghi non ne esci comunque bene io ho sempre perso forza quando facevo cut lunghi quindi la forza si perde se però stai anche lontano da intensità alte la perdi ancora più rapidamente quindi ci sta cercare di tenere sempre il feeling con i carichi alti e quello è il punto del discorso dei cut dunque dovremmo essere quasi la fine alla fine siamo riusciti a parlare di un sacco di cose anche di Star Wars ecco infatti 30 secondi grazie mille Ale la tua precità aiuta tantissimo a che bisogna di consigli concreti figuratevi anzi io punto sempre essere pratico perché secondo me è l'unica cosa che conta piuttosto che riempirsi tanto di palle inutili quindi vi saluto a questo punto vi auguro buon Natale perché mercoledì prossimo sarà Natale ci vediamo alla prossima diretta e buona serata a tutti ci vediamo alla prossima grazie a tutti